Ciao ragazzi, il mio nome è Stefano Mongardi e il mio Dario Vignali. Siamo qui a Las Vegas in occasione dell'Affiliate Summit, un meeting internazionale di professionisti che guadagnano in rete con le affiliazioni. Tra questi abbiamo conosciuto diversi ragazzi che lavorano con Instagram, incrementano il loro seguito e sviluppano collaborazioni con grossi brand. C'è chi guadagna qualche centinaio di euro al mese e chi invece ne fa sbagliate migliaia. Abbiamo sviluppato Instagram Onfire per insegnare anche in Italia le strategie adottate da questi ragazzi. Proprio così, Instagram Onfire è un corso per accrescere proprio seguito su ISAM e guadagnarci pure. Fino ad oggi più di mille persone hanno acquistato il nostro corso e molto di questi hanno raggiunto migliaia o decine di migliaia di followers. Altre guadagnano già. Il nostro è il primo corso avanzato d'Italia e sia io che Stefano abbiamo collaborato con grossi brand. Se sei interessato a conoscere le stesse strategie e utilizzatele a chi guadagna migliaia di euro al mese con Instagram, beh questo è il corso che fa per te. Un saluto da Las Vegas ragazzi. Ciao ragazzi.